Tragedia sfiorata questa mattina in un condominio di via Pino Pascali a Polignano, nei pressi di Piazza Sant'Antonio. Non si sa se per una distrazione o per dolo un appartamento è stato riempito di gas venuto fuori da una cucina. Solo il pronto intervento dei carabinieri in maniera involontaria ha evitato il peggio, tanto che non sarebbe stato necessario nemmeno l'intervento dei vigili del fuoco. Nell'appartamento abita da solo una signora anziana da anni rimasta vedova del marito e che avrebbe manifestato già qualche problema di condotta. Del caso, in passato, sono stati anche interessati i servizi sociali del comune. Già nella serata di domenica qualcosa non andava. I condomini hanno avvisato i tecnici dell'azienda del gas su una possibile fuga di metano. Ma l'intervento sarebbe stato negativo, anche perché i tecnici si fermano alle tubazioni esterne, in quelle interne alle abitazioni non ci possono mettere piedi senza consenso. Invece stamane è stata la stessa signora a presentarsi in caserma con una scusa banale e assolutamente non plausibile. Accompagnata a casa dai militari, l'amara scoperta e la prontezza dei carabinieri che hanno subito aperto porte e finestre. Naoseante, la puzza di gas e appartamento ormai saturo. Una qualunque scintilla avrebbe provocato lo scoppio alla tragedia. I militari dell'Alba continuano il loro lavoro per cercare una soluzione ai problemi della donna, interessando le istituzioni preposte. Grazie. 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 Grazie a tutti.